I nuclei ispettivi pesca della Guardia Costiera di Palermo, Trapani, Mazzara del Vallo, Portempedocle, Gela e degli altri uffici marittimi dipendenti hanno effettuato nel mese di dicembre controlli sull'intera filiera della pesca. Ispezioni sono scattate nei mercati ittici, pescherie, ambulanti su strada, mercati rionali e mezzi di trasporto. Nel corso dell'operazione sono state effettuate 202 controlli, sono state fatte multe per un totale di 80.000 euro e sono stati sequestrati 24,5 tonnellate di prodotti ittici. Tra questi a Palermo, in alcuni depositi e mini market, sono stati sequestrati circa 6.500 kg di prodotti ittici congelati, senza tracciabilità, provenienti soprattutto dal sud-est asiatico. A Villa Abate, in un deposito, sono stati sequestrati 1.300 kg di tonno rosso, sotto misura. Il titolare ha avuto una multa di 33.334 euro. Sempre nello stesso stabilimento sono stati sequestrati, a carico di un motopesca che aveva portato il pescato, circa 11,5 tonnellate di tonno congelato. A Marsala sono stati sequestrati circa 1.500 kg di prodotto ittico vario, di cui 800 kg ad un motopesca per effettuazione di attività di pesca a strascico nelle giornate festive. Infine, a Mazzara del Vallo, sono stati sequestrati, presso un deposito di prodotti ittici congelati, circa 2.200 kg di pescato privo di tracciabilità o scaduto. 10 tonnellate di pesce sequestrato, dopo i controlli dei veterinari dell'ASP, sono stati dati in beneficenza. 14 tonnellate sono state distrutte.